Bella a tutti i miei slimes, qui è Alv, bentornati nel mio canale, eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo di PGF New, un rapper americano di Chicago che negli ultimi mesi, ma in generale nell'ultimo anno, sta facendo parecchio parlare di sé e che potrebbe essere la nuova big thing di questa città. Prima di cominciare una piccola premessa, è un ragazzo 2001 che è praticamente all'inizio della sua carriera, quindi non ho trovato tantissime informazioni su di lui, ma tutto ciò che ho trovato, insomma, l'ho mescolato insieme e ho cercato di rendere il video, insomma, il più completo possibile. Come al solito, mi piace, commento, iscrivetevi al canale, qui sotto in descrizione trovate tutti i miei social, il gruppo Telegram, le playlist, trovate veramente di tutto e mi raccomando, scrivetemi nei commenti anche il nome di un rapper di cui vi piacerebbe sentirmi parlare. Inizio col dire che purtroppo non sono riuscito a trovare il suo reale nome e cognome, ma da quanto ho letto in giro, Nook dovrebbe essere proprio il suo nome vero. Invece nel nome d'arte il PGF è un acronimo che sta per Psycho Gang Family, che sarebbe il collettivo di cui fa parte. Come dicevo prima, è un ragazzo del 2001, quindi a 20 anni, ha origini africane ed è ovviamente di Chicago. Decide di abbandonare gli studi al 9th grade, che equivarrebbe al primo o il secondo superiore, diciamo, nostro, a seconda del paese. E una volta lasciata la scuola, insieme ai suoi amici, hanno cominciato a creare i primi problemi a Chicago, derubando persone e creando, insomma, disordini di ogni tipo. Il primo approccio alla musica l'ha avuto in una maniera alquanto singolare, perché come spiega nell'intervista con Adam22, che sarebbe il ragazzo di Nojumper, tra l'altro vi lascio l'intervista in descrizione perché secondo me è molto interessante, insieme ai suoi amici aveva creato una pagina su Facebook ed essenzialmente andavano in live e rappavano, quindi o facevano freestyle o cantavano canzoni già fatte. Questo perché proprio spiega che all'inizio proprio non avevano soldi, né per pagarsi lo studio né tantomeno per registrarsi video, e quindi fare da soli era l'unico modo che avevano, insomma, per arrangiarsi. Comincia a rilasciare le prime canzoni nel 2018, ma all'inizio non è costantissimo e soprattutto nel 2019 c'è una vicenda che lo riguarda, che gli dà un po' di fastidi anche dal punto di vista musicale. In poche parole va virale su internet un video dove un gruppo di ragazzi picchia o comunque infastidisce una ragazza disabile che poco prima aveva chiesto loro dove si trovava la stazione dei treni di Chicago. Perché lo coinvolge? Perché no, lui non appare nel video menare la ragazza, lui è il ragazzo che ha filmato il video. Lui ha provato a giustificarsi su Instagram con un post dicendo no guardate, innanzitutto io non ho alzato le mani a nessuno e quelle persone che hanno menato la povera ragazza non sono neanche mie amici e li ha definiti anche delle bitches perché insomma per menare una ragazza disabile beh, non fatemi essere scurrile, io ho solamente fatto il video. E questa cosa ha un po' smosso la comunità americana perché hanno detto ok, tu non hai menato la ragazza, tu non conoscevi le persone che lo hanno fatto però non hai fatto neanche nulla per impedirlo e cosa hai fatto alla fine? Hai fatto il video, cioè cosa hai fatto? Hai fatto giustizia, sei uno snitch. Quindi diciamo che poi informandomi anche su siti come Reddit ho visto che la community americana è un po' spaccata su due fronti chi insomma lo supporta e ritiene che possa essere la nuova big thing della scena drill di Chicago e chi invece lo reputa un po' mediocre e anche per cose del genere un rapper insomma che non è niente di che. Tralasciando questa piccola storia, lui dal punto di vista musicale comincia a fare sul serio nel periodo della pandemia iniziando a caricare anche i primi video su YouTube, fatti bene. Una cosa che lo caratterizza sin da subito è l'uso dello ski mask praticamente in ogni occasione che siano video musicali, interviste o anche in generale post su Instagram anche come gira lui proprio a livello di vita reale. Ha sempre lo ski mask addosso. Dopo diversi singoli che lo hanno aiutato a mettersi in mostra arriva finalmente What Up, quella che si può definire la sua prima vera hit. Personalmente trovo questa canzone devastante, barre cattivissime e chiaramente l'impronta drill di Chicago non può che non farsi sentire anche nei testi. Nel caso in cui non la conosceste vi consiglio vivamente di recuperarla. Qualche mese più tardi pensate che viene rilasciato anche un remix con Polo G con annesso video su YouTube. Continua a droppare i singoli e tra questi c'è anche It's Nuke, un'altra canzone che riesce a metterlo sotto i riflettori. Ma mettendo da parte per un attimo il discorso musicale, diciamo che lui riesce ad attirare l'attenzione su di sé anche per altre cose. Per esempio, in un post su Instagram si definisce il rapper più hot del momento dicendo di non paragonarlo con altri n-word con gay rumors e in questo caso si riferisce a Lil J, conosciuto anche come King Lil J. Chi è? È un rapper di Chicago che nel 2019, pensate un po', era stato condannato a 12 anni di carcere per omicidio, tuttavia lui si trovava già in galera dal 2015 per accuse di spaccio, ed è uscito recentemente dopo 7 anni e poco più di carcere. Da quando è uscito ci sono questi rumor che li girano attorno sul fatto che, insomma, così tanto tempo passato in galera l'abbia portato ad essere omosessuale se non bisex. E ora, se vogliamo fare i moralisti, questo di base non è assolutamente un problema, però diciamo che in una città come Chicago, dove già la mentalità è quella che è, e soprattutto c'è anche questa storia della drill, uno che fa drill che è un po' bisex omosessuale, diciamo che non fa una bellissima figura. Invece, in una live su Instagram ha disrispettato FBG Duck, per chi mastica di drill sicuramente saprà chi è, perché si tratta di uno dei rapper, secondo me, anche più iconici di questo genere. È sempre passato un po' inosservato per via dei suoi beef, infatti è un opposite storico di Chief Kiff, King Bone, e in generale tutto quel blocco lì. Poi purtroppo lui è già morto nel 2020, quindi sono già un paio di anni, però non è una novità che, insomma, rapper di Chicago dissino altri rapper che purtroppo sono già morti. Tornando alla musica, invece, l'8 luglio di quest'anno, quindi proprio recentemente, qualche settimana fa, è uscito Switch Music, il suo primo progetto ufficiale. Nook si definisce King of Switches, e il titolo dell'album è proprio collegato agli Switches. Ma cosa sono? Sono degli accessori che vengono montati sulle armi, così come per esempio una pistola, proprio lui è fissato con la Glock con gli Switches, ed essenzialmente trasformano la pistola, in questo caso, quindi un'arma che comunque di solito spara sempre un colpo alla volta, in un'arma automatica, che quindi può sparare grafiche anche di 7-8 colpi, insomma, fino a quando il caricatore non si esaurisce. Questo costituisce un bel problema per Chicago in generale, perché questi accessori stanno iniziando anche a essere piuttosto gettonati, preciso che sono illegali, quindi sono del tutto illegali, però nonostante questo un sacco di gente li usa. Come dicevo prima, lui si definisce il re di questi accessori, però diciamo che è parzialmente vero, nel senso che lui anche nell'intervista ha detto che da quando ne parlano i testi, da quando ha tirato fuori dall'immaginario questa cosa, tutti a Chicago hanno incominciato ad usarli, però in realtà è un qualcosa che troviamo anche ricorrente nei testi di Lil Durk, per esempio. Tuttavia, l'album è composto da 16 brani totali, con fit anche abbastanza interessanti, che vanno da Polo G e G Erbo, quindi due bandiere di Chicago, ad altri rapper come Big 30 e ESTG. Tra l'altro è presente un altro remix di What Up, questa volta con una strofa inedita di G Erbo. Ora vi dico un po' cosa ne penso io di questo progetto, ma in generale di lui a livello musicale. Io rientro, diciamo, nella fazione di quelli che ritengono che lui possa diventare la next big thing di Chicago, perché secondo me negare il fatto che abbia un sacco di potenziale è un po' una stupidaggine. Ovviamente, come ogni rapper che è all'inizio, ha anche diversi aspetti su cui lavorare. Per esempio, questo album io l'ho trovato carino, però c'è da dire che sono tutti 16 brani di due minuti, due minuti e mezzo, che sembrano più una playlist che altro, ed effettivamente le canzoni tra di loro si assomigliano un po', quindi diciamo che lui potrebbe in futuro anche cercare qualche modo per suonare un po' diverso o per parlare anche di altro. Come ho detto prima, ho cercato di raccimolare quante più informazioni importanti possibili su di lui e questo è quanto. È un ragazzo del 2001, ha ancora una vita, una carriera da vivere, sperando che appunto possa affermarsi nella scena drill di Chicago perché secondo me non esce da lì un ragazzo così interessante tipo da Apollo G e comunque parliamo già di 2, 3, 4 anni fa. Concludo quindi con una domanda che pongo a voi. Secondo voi, PGF Nook ha la stoffa necessaria per diventare il prossimo re di Chicago? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ditemi anche se già lo conoscevate, cosa ne pensate di Switch Music e in generale un po' di lui. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, condividetelo con gli amici, mi raccomando, è importante, se no questi video non vanno up. Se non lo siete, iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina, qui sotto in descrizione trovate anche il mio canale secondario, così come tutti i miei social, le playlist e il gruppo Telegram. Per oggi è tutto, noi ci vediamo con un prossimo video. Slat!